Allora ce ne andiamo, partiti! In vantaggio Cardinal Berg davanti a Monister, Luigi Celli, Aldabra, Salisburgo, Totti, Costi, Draune e Checcec. Dopo 200 metri di corsa, in vantaggio Cardinal Berg davanti a Aldabra, con all'esterno Luigi Celli, seguono Monister, Salisburgo, Totti, Draune, Topico e Checcec. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Cardinal Berg davanti a Luigi Celli, Aldabra, Salisburgo, Monister, Speed, Draune, Topico e Checcec. Poco prima dell'ingresso, in vantaggio Cardinal Berg davanti a Luigi Celli, Monister e Aldabra. I cavalli entrano in vantaggio con Cardinal Berg in vantaggio, davanti a Luigi Celli, Monister, con all'esterno Checcec, seguono Topico, Speed, Draune e Salisburgo. E' sempre in vantaggio Cardinal Berg davanti a Checcec, Luigi Celli, Topico e Speed, Draune. Prosegue in vantaggio Cardinal Berg attaccato all'esterno da Checcec, seguono Tropico e Luigi Celli, all'interno è Cardinal Berg all'esterno Checcec, indi Tropico e Luigi Celli. Avete visto amici, hai visto caro Rolando, la cosa come è importante avere il contributo dei tecnici impegnati nella Corsera prima in sede di presentazione. Ebbè, bell'arrivo però, bravo pure Maurizio Margi che si è arrivato molto bene. E' bellissimo, l'interpretazione di Largi è stata perfetta, però la fotografia che ci ha fatto Vincenzo Di Napoli prima è quella proprio, la fotografia esatta di quello che poi è avvenuto. Cercare di addormentare all'inizio, allungare bene e resistere nel finale. Considerate pure che i dieci anni forse si cominciano a far sentire sulle spalle anche di Checcec.